Dal gioioso incontro con i leader religiosi del Myanmar alla profonda emozione provata nell'arcivescovado di Dhaka chiedendo perdono ai profughi Rohingya per l'indifferenza del mondo. Sono stati numerosi gli argomenti toccati da Papa Francesco nel corso della consueta conferenza stampa sul volo di rientro dal suo ventunesimo viaggio internazionale, il terzo in Estremo Oriente. Sollecitato dalle domande dei giornalisti, Francesco ha ripercorso le tappe fondamentali che hanno scandito i suoi giorni da pellegrino di pace in Myanmar e poi in Bangladesh. Affrontando il tema del dialogo interreligioso, il pontefice ha sottolineato che la Chiesa cresce non per proselitismo ma per attrazione, testimoniando il Vangelo ogni giorno con rispetto. La pace, ha aggiunto Francesco, tramunta proprio quando inizia il proselitismo. Riguardo all'ospitalità e alla protezione offerta dal Bangladesh alla minoranza etnica di religione islamica, Papa Bergoglio lo ha definito un grande esempio di accoglienza, un paese piccolo, povero, che ha comunque ricevuto 700.000 persone in difficoltà. Francesco si è poi soffermato sull'incontro con il gruppo etnico dei Rohingya. Dopo averli ascoltati uno ad uno, ha raccontato alla stampa il pontefice, ho cominciato a sentire qualcosa dentro, non potevo lasciarli andare senza dire nulla. Ed ho parlato, ho chiesto perdono piangendo, ha aggiunto Francesco, e loro piangevano con me. Sulla possibilità di un suo eventuale viaggio apostolico in Cina, il Papa ha poi ricordato che le trattative sono in corso, sottolineando quanto una simile visita necessiti di una paziente preparazione, ribadendo che le porte del cuore sono sempre aperte.